Nell'Ottocento il problema di avere unità comuni, di avere un sistema metrico e coerente di unità è ormai chiaro, nel 1875 gli stati industrializzati dell'epoca firmano la cosiddetta convenzione del metro. La convenzione del metro è un trattato internazionale che esiste ancora oggi, qui vedete le firme dell'epoca, compresa quella dell'Italia di Costantino Nigra e il sistema internazionale attuale è un prodotto di questa convenzione. Il sistema internazionale non è un oggetto statico che è stato inchiodato al 1875 ma evolve perché evolvono le necessità di misura. Fino adesso abbiamo parlato di tempo, di lunghezza e di massa. Naturalmente la scienza, l'industria e il commercio ha necessità di altre misure e quindi al sistema internazionale si aggiungono altre unità di misura di base che per esempio una delle unità importanti è il Kelvin, unità di misura della temperatura. Il Kelvin è il risultato se volete della scoperta del zero assoluto e la temperatura di una specifica condizione dell'acqua che è il punto triplo dell'acqua dove coesiste solido liquido e vapore viene presa come temperatura di riferimento per la definizione del Kelvin. Il Kelvin è esattamente 1 su 273,16 la temperatura del punto triplo dell'acqua quando la prendete a partire da zero assoluto. Questo è un esempio di un'unità che acquista importanza con i processi, con la scienza, con i processi industriali per i quali occorre quindi una definizione addizionale. L'Ottocento è anche l'anno dello sviluppo dell'elettromagnetismo e un'altra unità che occorre, altre unità che occorrono a definire sono le unità dell'elettromagnetismo e come unità di base del sistema internazionale viene preso l'ampere che è l'unità di misura della corrente elettrica e poiché all'epoca della definizione i fenomeni rilevanti elettromagnetici e anche adesso naturalmente sono i fenomeni elettrodinamici quindi fenomeni dove si manifestano delle forze tra conduttori percorsi da corrente. Il motore elettrico è una cosa per cui passando dalle correnti si magnetizzano dei materiali che esercitano delle forze. L'ampere è un'unità che viene definita in termini di forze. Lì vedete un disegnino corrispondente alla definizione è una definizione molto complicata, richiede due conduttori infiniti di lunghezza infinita di sezione trascurabile distanti un metro, se mettete tra questi due conduttori un ampere nascono delle forze e l'entità di questa forza se fate passare a un ampere, secondo la definizione è 2 per 10 alla meno 7 newton, quindi una forza relativamente piccola. Naturalmente questa definizione non può essere applicata così com'è perché i conduttori infiniti non esistono, però si possono costruire delle realizzazioni dell'ampere, quella che vedete nella figura è la cosiddetta bilancia di corrente ed è una bilancia vera e propria con dei bracci, su uno dei bracci è posta una massa, quindi un peso, una forza, sull'altro braccio sono poste delle bobine attraverso cui si fa passare la corrente che producono una forza che compensa la forza peso. Questo quindi è uno strumento per la realizzazione dell'ampere. È chiaro che è uno strumento complicato e uno strumento di cui occorre considerare tutte le dimensioni geometriche, occorre quindi fare delle misure meccaniche molto precise, ma è per mostrare che secondo il sistema internazionale nell'evoluzione storica la unità di corrente elettrica era un'unità meccanica. Adesso siamo in questo periodo di rivoluzione di cambiamento e vedremo fra poco che la definizione di queste unità cambierà.